Non si fermano le ispezioni da parte dei carabinieri del NAS di Ragusa le strutture ricettive dedicate all'ospitalità di persone anziane, quali case di riposo, case famiglia e residenze socioassistenziali nella provincia nissena. Dopo i sigili della casa di riposo abusiva di Gela in provincia di Caltanissetta, infatti, questa volta nell'ambito dei controlli svolti nel comune di San Cataldo, sempre all'interno della provincia nissena, è stata individuata una struttura per anziani per la quale il sindaco ha ordinato la sospensione. Il provvedimento si è reso necessario poiché la struttura è risultata sprovvista di iscrizione all'albo comunale delle strutture socioassistenziali, priva dei requisiti organizzativi funzionali previsti per l'esercizio dell'attività specifica e degli standard sanciti dalla normativa di riferimento per le strutture private. Nello specifico, il titolare della struttura non aveva previsto insieme al personale strutturato un infermiere professionale con reperibilità nell'arco delle 24 ore, figura necessaria per l'applicazione o somministrazione delle terapie prescritte dai medici curanti o dagli operatori sanitari del territorio a beneficio degli ospiti della casa di riposo. Al titolare dell'attività, inoltre, è stata contestata una sanzione amministrativa per l'ammontare complessivo di 1.032 euro per aver arbitrariamente aumentato la capacità ricettiva della struttura rispetto a quella autorizzata.